Indagato per aver donato cibo ai migranti. E' nero su bianco il verbale di denuncia firmato il 20 marzo scorso dal commissariato della Polizia di Stato di Ventimiglia. Nel caldo confine italiano con la Francia, corridoio utilizzato dai migranti per tentare di superare i muri invisibili tra le due nazioni, l'ordinanza del sindaco Enrico Ioculano dell'11 agosto 2016 trova ora la prima applicazione nota che sarebbe stata imputata tra i cittadini francesi e subito fa discutere che lo Stato punisca un gesto di solidarietà. Come si legge nel documento pubblicato dal sito di Repubblica, indagato per aver somministrato senza autorizzazione cibo ai migranti. L'ordinanza, secondo quanto spiegato allora dal primo cittadino, era nata aducendo motivazioni di ordine igienico-sanitario nei confronti dei migranti, che fra l'altro avevano trovato riparo forzoso in passato anche sugli scogli della cittadina Ligure e che aveva visto in risposta all'emergenza l'allestimento del centro predisposto dalla Prefettura e gestito dalla Croce Rossa italiana. Così, circa sei settimane fa, il Vescovo di Ventimiglia, Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, descriveva la situazione di aiuto della Chiesa ai migranti nella diocesi Ligure. Quest'anno la nostra diocesi è stata davvero molto impegnata, direi ancora più in prima linea, perché ha organizzato presso una parrocchia, che è la Chiesa di Sant'Antonio, un punto di accoglienza. Inizialmente anche ospitando i profughi in chiesa, anche per dormire. Nell'anno 2016 abbiamo avuto circa 15.400 presenze, di cui quasi il 25%, circa 3.800 persone, erano minori tra i 15 e i 18 anni. Nell'anno 2016 abbiamo avuto circa 15.000 persone,